Ivan, cos'è mancato per fare il compagno? Mancato che ho sbagliato le palle decisive, c'è l'occasione di riaprire la partita e ho comunque, nei set precedenti che abbiamo perso, il primo e il secondo set, mi ricordo che avevamo l'occasione di stare attaccati a loro e continuavano a stare attaccati e mi sono preso un paio di monate di troppo, ho messo qualche contraattacco sbagliato ho avuto la palla del cambio palla del 23 pari, l'ho chiusa con uno scoglio di ricezione così Nel primo set mi è sembrato che abbiate sbagliato qualche contraattacco di troppo Quello è dettato da attenzione, abbiamo sbagliato un po' di contraattacchi, un po' di cose entrambe le squadre all'inizio erano molto tese perché è un appuntamento molto sentito e questa rivalità è bella accesa, quindi chiudiamo, rimaniamo noi stessi nel bene e nel male abbiamo fatto un bel 2020 fino a questo punto, questa sera non è andata, quindi resettare e ripartire Io sono apposta